Ciao ragazzi, allora oggi vi propongo un altro video speciale sul personaggio di Ant-Man visto che tra pochissimo vedremo finalmente il sequel di Ant-Man, ovvero Ant-Man and the Wasp io sono super curioso di vedere questo film perché già la prima pellicola mi era piaciuta infatti ha sfruttato un personaggio sconosciuto al grande pubblico ed è riuscito a renderlo ugualmente iconico e apprezzato da tutti oltretutto io sono ancora più curioso di vedere se con Ant-Man and the Wasp ci verrà rivelato che cosa stava facendo Scott Lang mentre gli altri Avengers si stavano confrontando con Thanos, comunque oggi non sono qui per speculare a riguardo no, oggi voglio fare un piccolo ripasso della storia di Ant-Man forse alcuni di voi non lo sanno ma Ant-Man è decisamente uno dei personaggi storici dei Marvel Comics e che ha giocato un ruolo importante in innumerevoli storie vi basti sapere che innanzitutto è uno dei membri fondatori dei Vendicatori e che inoltre ha anche creato il robot assassino Ultron forse non sapete anche che a indossare i panni di questo supereroe sono stati diversi personaggi difatti c'è stato un passaggio di testimone che ha portato più individui a diventare Ant-Man e oggi voglio proprio ripercorrere questa storia il primo Ant-Man della storia è quello di Hank Pym e il primo film dedicato al supereroe sotto questo punto di vista è fedele perché lascia intendere che Hank Pym ha vestito i panni di Ant-Man prima di Scott dunque Hank Pym è un dottore che è riuscito a creare un siero che gli permette di rimpicciolirsi fino a raggiungere le dimensioni di una formica e che ha deciso di utilizzare a fin di bene inoltre ha anche costruito un casco speciale che gli permette di comunicare con le formiche sintonizzandosi sulla loro frequenza rendendole delle importanti alleate nel corso della sua lunga carriera Ant-Man ha fatto coppia con Wasp sia in termini come dire lavorativi che sentimentali tra Hank Pym e Jeannette infatti c'è stata una relazione che li ha portati addirittura a sposarsi col passare degli anni però il dottore ha assunto più identità supereroistiche difatti dopo Ant-Man è stato anche Golia, Giant-Man e infine Calabrone in particolare è indossando i panni di Calabrone che il dottore ha vissuto un periodo abbastanza difficile e che si è concluso con la sua espulsione dal gruppo dei Vendicatori dopo aver aggredito fisicamente sua moglie Hank Pym devo dire che è stato sicuramente uno degli Ant-Man più interessanti non soltanto perché è il primo ma perché è stato un supereroe protagonista di vicende piuttosto spiacevoli come dicevo è stato lui a creare il robot assassino Ultron una cosa di cui non si è mai perdonato quindi il personaggio è interessante perché secondo me non è un supereroe interamente positivo anzi tra tutti i supereroi dei Marvel Comics direi che è quello con il curriculum meno nobile il secondo Ant-Man della storia è Scott Lang e le origini di questo personaggio probabilmente un po' le conoscete già perché sono simili a quelle raccontate nel film anche nei Marvel Comics infatti Scott diventa Ant-Man dopo aver rubato nella villa di Hank Pym il suo costume da supereroe anche se nei Marvel Comics le ragioni del furto sono diverse da quelle del film nella sua storia infatti Scott decide di rubare il costume di Ant-Man di Pym perché vuole cercare di salvare una dottoressa che potrebbe guarire la malattia cardiaca di sua figlia ma che è stata rapita da un magnate di nome Darren Cross anche lui malato di cuore dopo il fatto Scott riporta il costume al dottor Pym con l'intenzione di costituirsi ma Pym colpito dalla nobiltà d'animo di Scott decide di passargli il testimone di Ant-Man Scott ha avuto una carriera supereroistica abbastanza lunga e niente ha fatto male infatti ha collaborato con diversi supereroi da Iron Man quando per esempio lo ha aiutato a mettere a posto dall'interno la sua armatura ai vendicatori quando li ha sostenuti nel loro primo confronto col supercriminale Taskmaster la sua vita privata però è sempre stata abbastanza difficile soprattutto quando il tribunale ha deciso di accordare l'affidamento della figlia Cassie alla sua ex moglie dopo questo fatto Scott si è unito al gruppo dei vendicatori come membro ufficiale ma rimane ucciso in un'esplosione nella saga Vendicatori Divisi recentemente però è stato riportato in vita dal gruppo dei giovani vendicatori che sono tornati indietro nel tempo proprio per salvare Scott di tutti gli Ant-Man se devo essere sincero Scott è sempre stato il mio preferito infine il casco di Ant-Man è stato indossato da Eric O'Grady di tutti gli Ant-Man questo è decisamente quello con la carriera peggiore innanzitutto si tratta di un Ant-Man che è nato praticamente per caso O'Grady infatti è un agente dello SHIELD che ruba la tuta di Ant-Man dal corpo del suo collega morto dopo un addestramento che doveva renderlo il terzo Ant-Man e da allora l'agente SHIELD si serve della tuta praticamente per i suoi scopi personali come per esempio spiare le ragazze sotto la doccia la carriera supereroistica di questo individuo è destinata ad avere vita breve per un periodo milita nella nuova formazione dei Thunderbolts di Norman Osborn per poi essere reclutato nei Secret Avengers di Capitano America ma poco dopo il suo ingresso nel gruppo muore salvando la vita di un bambino però almeno qualcosa di buono l'ha fatto come dicevo tra tutti gli Ant-Man questo probabilmente è quello con la carriera più ingloriosa e onestamente sono contento che sia stato definitivamente tolto dai Marvel Comics perché l'ho sempre trovato un personaggio abbastanza fastidioso e inutile attualmente è di nuovo Scott Lang a vestire i pani di Ant-Man e sta cercando di trovare il proprio posto nel mondo dopo la sua ressurrezione quindi con questo ragazzi chiudo questo piccolo ripasso della storia di Ant-Man io ragazzi spero che vi sia piaciuto ora vi invito a farmi sapere con un commento che cosa vi aspettate dal film Ant-Man and the Wasp non appena lo andrò a vedere troverete la recensione del film sul mio canale personale detto questo io vi auguro di passare un buon weekend passate una buona estate e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video un nuovo video